Ego, Ego, Ego è proprio qui! Il leader indiscusso dello shopping in tutta la Liguria. Quasi 5.000 metri quadrati a disposizione per i vostri acquisti. Io ormai da Ego mi sento a casa, perché trovo una grande famiglia e un valido staff di collaboratori pronti a seguirmi, consigliarmi e propormi le ultime novità e promozioni. Scopriamole insieme! Arriva l'inverno e mi devo prendere una giacca, forse un cappotto, magari un piumino, o meglio un pellicciotto, non ho ancora le idee ben chiare, ma di una cosa sono sicura, io vado da Ego, perché con l'incredibile assortimento sono certa di trovare tutto quello che farà al caso mio. Nappapiri, Petere, Blower, Up to Be, Keyway, North Sale e tantissimi altri. Up to Be di ultima moda per il fidanzato, il grande Woolrich per la mamma e il favoloso Petere è mio, ma la cosa bella è che questo me lo regala Ego. Approfittate dell'eccezionale sconto 3 per 2, ne pagate 2, il terzo ve lo regala Ego. Ego ti aspetta a Vado Ligure, a 800 metri dal casello di Savona, aperto tutti i giorni anche la domenica pomeriggio. Per info visita il sito egostore.it